Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Siamo qui oggi su una gara particolare Come potete vedere la miniatura di questa gara Guardate la gara lì in alto Che cazzo è Oh no 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 però no sti pali di merda Sto contatto Vaffanculo 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 Levati otario Significa cretino ragazzi In portoghese Dai 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 Ciao scusami Fabio lo stavo portando a presso Dai dai proprio continuiamo Continuiamo ragazzi cerchiamo di andarci a prendere sta vittoria C'è un salto infame No non ti voglio venire addosso Ok perfetto così ragazzi Ragazzi Arriviamo cerchiamo di arrivare almeno a sti Dannati mille like Cioè è il minimo ragazzi Almeno mille like E cerchiamo di andare a vincere sta gara Milk bomber al primo posto Vediamo di recuperarlo ragazzi Dai prendi la scena questa Di solito in velocità di punta la usai Tra un tocco in più dell'attività Quanti checkpoint? 28 28 ok Dovrebbe essere tra poco no? Perché era sul ponte della strada se non mi sbaglio Vabbè comunque ragazzi Sì penso che sia ora perché c'è tanto spazio Eccolo lì ragazzi guardate che splendore Che splendore Registriamo qui Concentrati ragazzi Oh cazzo No 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 Uh ragazzi sono riuscito Alla prima Bene così bene così ragazzi No guardate sti pali di Del basket indistruttibili poi Anche Mick bomber l'ha fatta la prima ragazzi Quindi siamo al secondo posto A tre secondi da lui Dobbiamo assolutamente recuperarlo Cerchiamo di prendere le strade più Veloci qui Scorciatoi Scorciatoi eh Scorciatoi Attenzione No ma perché si pali con Così invisibili No raga No ma che cazzo sta succedendo No non posso buttare una gara così però No Ste montagnelle trollo Cioè incredibile Ok Strade molto insidiose ragazzi In questa cazzo di gara Figa Ok Ora purtroppo abbiamo 11 secondi da Mirk E dobbiamo sperare a questo punto che lui Qui al massimo Qui al massimo C'è il creatore a tavoletta Dobbiamo sperare che Che lui sbagli il Il giro Guardate quella macchina come vola Dunque è incredibile ragazzi Che cosa si sta arrivando con questi oggetti moddati E pensate che tra poco Forse tra due settimane uscirà il nuovo update Credo il 4 luglio perché Le L'immagine del creatore Quella famosa immagine Che magari ora vi metto in scuola di pressione Dei nuovi oggetti ragazzi Con la forma della bandiera americana Con i colori della bandiera americana Credo che quindi Sono indirizzati al Al periodo del 4 luglio Quello della festa dell'indipendenza americana Incaren ci saluta Ciao Incaren Ciao bro No ho finito troppo tardi No 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 Ok perfetto Abbiamo ridotto a 10 secondi ma Ora l'unica speranza È che lui sbagli ragazzi Sbagli quella dannata Quella dannata spirale Quindi stavo dicendo Speriamo che uscirà Versi il 4 luglio Con oggetti nel creatore Nuovissimi ragazzi Incredibili E sicuramente vi porterò Altri tutorial del creatore Scusate se non ho portati altri Non ho portato solo il primo però Cercherò in futuro di portarne altri Levatevi davanti al cazzo Per fortesia sono Guarda più veloce di voi Levate anche tu Bellissimi sorpassi raga Oh no ho sbagliato Cazzo Si può cittare? Si può cittare? No si può cittare raga Ora siamo addirittura terzi? Quinti? Sesti? Sì vabbè Ora si fa dura raga Ora si fa dura Comunque se non sbaglio Si può cittare Perché se avessi Se avessi girato un po' più Verso destra Sarei riuscito a farlo Comunque cerchiamo di farlo legittimamente Ok ragazzi Preso perfettamente Quarto posto No vabbè raga Secondo me quando ho cittato Un bel paio di persone Ecco la quarta raga Incredibili Eh vaffanculo Fabio Ma che cazzo Cioè raga Mirkbomber secondo Alejandro primo Vabbè Andiamoci a prendere questa quarta posizione almeno Credo che sia impossibile Quasi recuperare il terzo posto Abbiamo sbagliato una volta raga Una volta Pure per poco Pure di poco E ci hanno puniti ragazzi Oggi gli avversari sono belli Belli duri Spondiamo tutto Cerchiamo di recuperare Mettiamo qualche persona per l'area Alejandro chiude in prima posizione Questo credo che sia Fabio Caria Che non è Luca in seconda Vabbè raga Ci andiamo a prendere questa quarta posizione Va bene così Poteva andare meglio ma Sinceramente complimenti agli avversari Ragazzi Ci vediamo sicuramente alla prossima gara Falou E' noice